Un trauma cranico, varie contusioni sul corpo e una prognosi di 15 giorni sono le conseguenze riportate da uno studente di 13 anni, vittima di un brutale pestaggio verificatosi domenica sera in un parco comunale di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Il giovane, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è stato accerchiato da una ventina di giovani che senza un'apparente ragione hanno cominciato prima a spintonarlo per poi e proseguire col pestaggio vero e proprio. Uno dei baby criminali aveva con sé un tirapugno, altre mazze di legno e mazze ferrate. Una ragazzina assiste al pestaggio e urla, ma il branco non si ferma. Si susseguono pugni, calci, colpi di spranga sul corpo, al volto, alla testa senza alcuna pietà. Durante il pestaggio appare anche un coltello, il parco comunale di Vialdomoro è meta di tanti giovani. La vittima, in evidente stato di shock, viene medicata all'ospedale Santo Bono di Napoli. Ne avrà per 15 giorni. Le indagini coordinate dalla Procura dei minori di Napoli sono affidate ai carabinieri di San Giorgio a Cremano.